Massimo, tu hai 44 anni, sì o no? No. Non ha 44 anni? Vabbè, siamo lì, siamo lì. No, siamo anch'io, siamo le 44. Andiamo a vedere, però magari ci sbagliamo, eh. Andiamo, vediamo. Se ne ha 46... Allora, un anno... Un anno, 4.000. 46. Due anni, 8.000. 43 ne avrà. Quindi ho 47 o 41. Quanti anni hai? 47. 47, 47 anni. Che avevo 46. Senti, intanto complimenti perché io adoro la fisarmonica, che abbiamo già sentito suonare, e quindi devo dire che sei molto bravo. Sei parte di un gruppo musicale. Io, Enrico, sono un musicista professionista da 30 anni e sono dei più notti fisarmonicisti nel mondo della musica da ballo, per cui... Ma sei bravissimo. Ti fai continuo a cosa al volo prima di andare via, ma proprio velocissimo perché la fisarmonica è uno strumento veramente... Non tanto consueto, ma è bellissimo. Per donna che sono tutto... Vai, vai. Un virtuosismo, un virtuosismo. Un virtuosismo. Un virtuosismo. Un virtuosismo. Un virtuosismo bravo, bravo, bravo. Bravissimo, bravo. Grazie per essere venuto, complimenti, grazie. Ho fruto un bonus a te. E allora, 60.500 euro, un bonus guadagnato. Siamo pronti per andare alla prossima maschina, però prima...